Ciao, io sono Valeria, ho 19 anni e a gennaio di quest'anno mi sono iscritta a Digital Coach. Sto seguendo il Master in Digital Marketing perché comunque, essendo molto giovane, ho deciso di seguire un percorso che mi potesse preparare completamente, quindi sia per quanto riguarda il mondo del web, dei social e dell'e-commerce. Ed è un'esperienza che mi sta cambiando la vita, soprattutto per le lezioni che svolgiamo, ovvero i docenti sono delle persone veramente disponibili, poiché se abbiamo problemi, difficoltà, non capiamo qualcosa, possiamo scrivere loro su LinkedIn e ci rispondono, quindi un contatto diretto con i docenti. E poi soprattutto le lezioni, che non sono semplicemente delle lezioni teoriche, ma anche pratiche, ovvero utilizziamo sin da subito i tools, i software, che comunque andiamo ad utilizzare anche nel mondo lavorativo. Ecco, quindi questo è un altro elemento positivissimo. E inoltre la work experience è un altro elemento, un altro fiore all'occhiello della scuola, credo, perché ti permettono proprio di lavorare per quattro mesi, o comunque se si scelgono più work experience, anche di più. Quindi lavorare concretamente, prepararsi concretamente a quello che sarà poi la manzione che andremo a svolgere in futuro, ecco. E io adesso sto ancora seguendo il master e vorrò seguire però una work experience per quanto riguarda l'e-commerce, perché sono appassionata di e-commerce, ecco. E un altro elemento positivo è la figura del career coach, ovvero io sono accompagnata durante il mio percorso formativo da Fabiana De Lauretis, che è una persona davvero preparata, gentile, e sin dal primo incontro mi ha permesso di capire quali fossero le mie attitudini, le mie peculiarità, e quindi questo mi ha permesso di capire meglio quale potesse essere il percorso più adatto a me, ecco. E quindi che dire, io sono davvero strafelicissima della mia scelta e la consiglio a tutti quanti, iscrivetevi a Digital Coach, soprattutto ai miei coetanei, dico di iscriversi a Digital Coach perché è davvero un'esperienza che vi cambia la vita, perché il digital è il futuro.